No, nothing's getting through, so let me spell it out A, B, C, D, E, F You're with your mom and your sister and your job And your broadcast car in my city Presidente Pasca, la prima tappa del Punto Tour organizzato da Antenna Sud, parte da Lecce un territorio che ci ha dato tante soddisfazioni a livello televisivo anche perché abbiamo sempre dato voce a grandi personalità come lei E' troppo buona Io questa sera, detto avevo altro impegno però non potevo mancare a questo appuntamento per testimoniare la vicinanza anche per l'istituzione che rappresento l'Antenna Sud che ha dato sempre voce a tante istanze del territorio delle istituzioni, è sempre una grande attenzione e sensibilità è diventata un elemento importantissimo dell'informazione nel Salento e il Salento inteso in senso ampio per me il Salento comprende anche Taranto quindi Antenna Sud in persona perfettamente incarna questo ruolo fondamentale mi spiace che il dottor Distante non sia adesso... ma lui è virtualmente sempre vicino a noi Bene, mi spiace di non continuare a restare con voi in questa bellissima cornice e con questa bellissima gente devo purtroppo andare per un impegno già preso e mi scuso per questo, vi faccio tantissimi auguri di buone vacanze e di buon lavoro Grazie E siamo in diretta nella prima tappa del Punto Tour e siamo qui nel Salento, siamo in Lecce al mio fianco un'imprenditrice, proprio Salentina una donna carismatica e dinamica da dieci anni alla guida di una grande azienda Signora Tarantino, un'avventura quella che voi avete avviato un'avventura nel mondo verde ecco, come è partito il vostro progetto? Sì, buonasera innanzitutto e grazie per la disponibilità Il nostro progetto in realtà è un progetto molto grande, bello e passionale in quanto Agrisalento per noi è una famiglia ormai esistente da più di dieci anni Agrisalento è passione per il verde, progettazione, paesaggio ama il Salento che è la sua terra ma non per questo si ferma qui ha anche progettazioni di ville molto importanti di strutture nel nord Italia che comunque sono bellissime da vedere e da gestire con le nostre squadre di progettatori Agrisalento, ripeto, è una squadra formata ormai da 25 unità che si suddividono nel territorio appunto salentino progettiamo qualsiasi tipo di paesaggio quindi dalla costruzione di piscine garden designer, quindi verde e qualsiasi tipo di manutenzione che occorre per mantenere sempre vivo appunto la bellezza poi del Salento in tante zone, anche le Maldive del Salento abbiamo delle grandi strutture dove portiamo avanti una manutenzione annuale e dà poi i frutti e si vede la bellezza del verde e del paesaggio quindi ogni luogo ha la sua bellezza e quindi Agrisalento è pronta lì a far fiorire questi posti che purtroppo tante volte sono molto abbandonati e quello è il senso portare alla luce un qualcosa che purtroppo è privo di passione diciamo noi perché questo mestiere è passione è la bellezza di un luogo spento ormai lo portiamo avanti e lo custodiamo nel tempo Qual è il progetto più bello che avete realizzato e che l'ha anche emozionata vedendolo Sì sicuramente come dicevo prima Pescoluse, le Maldive del Salento un'importante villa anche se privata ma molto molto rinomata io potessi farvi vedere dei video è una struttura davvero fantastica è venuta fuori una struttura fantastica immersa nel verde ripeto abbandonatissima e non sembrava quello che è in questo momento è anche un punto di riferimento è diventato per i velleggianti che vanno a vedere questa struttura lo dico perché ci è stata messa tanta passione e tanto cuore abbiamo davvero delle persone specializzate lo dico in quanto io l'azienda l'ho vista nascere l'ho seguita e quindi anche le persone che ci lavorano ripeto sono per noi una famiglia e questo dà anche lo stimolo a loro di creare quello che poi esce fuori in modo davvero come se fosse anche loro credo che sia questa anche l'anima per il successo la base per il successo di un lavoro questa zona di Pescoluse ripeto è proprio vicino al mare e dà questo paesaggio con questa villa immersa nel verde di vari tipi comunque di prato in base alla progettazione che ne esce fuori con piscine, con fontane una struttura creata davvero nei minimi dettagli molto particolare e siamo qui nella prima tappa del punto tour di Antenna Sud con un grande imprenditore giovane, giovanissimo il dottor Francioso ha 35 anni circa ma dirige un'azienda insieme al fratello che è giunta alla terza generazione ecco un'azienda di famiglia per un imprenditore giovane come lei è un impegno? eh sì, è un impegno abbastanza importante che stiamo portando avanti da un po' di anni con soddisfazione e con impegno e devo dire che comunque i risultati se ce la metti tutta arrivano e grazie a Dio stanno arrivando di cosa vi occupate? di costruzioni in generale diciamo dalla villetta residenziale all'albergo comunque a delle strutture anche un po' più importanti ristrutturazioni lavori diciamo edili in genere piscine in un momento in cui l'edilizia ha avuto comunque un momento di crisi vive ancora un momento di crisi dopo anche il rilancio dovuto a tutti i bonus quali sono i vostri progetti del futuro? voi siete molto positivi? sì, siamo positivi anche se questi bonus sono stati diciamo un'arma a doppio taglio adesso sono un po' fermi diciamo così però diciamo siamo fiduciosi nel futuro vediamo come si mettono le cose qual è il progetto più bello che avete realizzato? allora il progetto più bello è stato anche il primo in realtà che è stato un resort con una bella struttura importante a Marina Dialiste una bella struttura di cui siamo fieri diciamo di aver realizzato e così un nostro spettatore dovesse scegliere un'azienda edile a cui affidarsi perché dovrebbe scegliere l'azienda franciosa? perché noi siamo volutamente diciamo un'azienda familiare quindi quando noi costruiamo è come se costruissimo una cosa nostra e quindi quando noi ci affidano un lavoro è come se fosse casa nostra ai suoi figli consiglierebbe di portare avanti la sua azienda e quindi pensare a una quarta generazione? ci spero, ci spero magari un giorno arriveranno anche loro sì grazie a tutti buonasera a tutti benvenuti a questo appuntamento speciale su Antenna Sud oggi siamo a Lecce nel Salento in questa bellissima terra abbiamo voluto organizzare questo evento noi del gruppo editoriale Domenico è Distante per abbracciare il territorio salentino abbracciare i leccesi e tutti i cittadini residenti nella provincia nella grande provincia di Lecce Antenna Sud ha tra le sue missioni quella di essere un emittente territoriale cioè stare vicino alla gente è per questo che stasera abbiamo voluto organizzare questa festa io ringrazio tutte le istituzioni che hanno accettato il nostro invito abbiamo degli ospiti che sono già sul palco e che tra poco li ascolteremo e le ringraziamo ovviamente per essere qui con noi stasera un evento particolare la trasmissione il punto di Manila Gorio itinerante parte proprio da Lecce dal Salento per dimostrare l'attaccamento che Antenna Sud ha a questo nei confronti di questo territorio volevo ringraziare anche il lavoro che ha svolto l'intera redazione di Antenna Sud la redazione di Staccata di Lecce a cominciare dal caporedattore Maria Teresa Carrozzo da Barbara Vagnani da Paolo Franza da Matteo Russo che hanno davvero dato il massimo affinché Antenna Sud stasera potesse essere protagonista qui nella Salento bene gli ospiti già ci sono questa breve introduzione è servita proprio per dare il là a questo evento il primo io volevo chiamare qui sul palco anche Manila Gorio che sarà la conduttrice della trasmissione della serata parleremo ovviamente dei temi di stretta attualità lo faremo con ospiti illustri che stasera qui alla Masseria Lucia e Giovanni hanno voluto essere presenti e allora Manila siamo pronti grazie direttore grazie per questa introduzione per l'editoriale e questa sera come detto dal nostro direttore faremo il punto faremo il punto di tante tematiche importanti perché il territorio ha bisogno della nostra presenza e noi con il gruppo editoriale Distante questa sera con tutta la famiglia di Antenna Sud siamo proprio per fare il punto è detto bene siamo una famiglia siamo un gruppo porto anche i saluti del nostro editore Domenico Distante che ha speso tantissimo affinché si potesse fare questo escursus territoriale sulle varie province pugliesi e lucane quindi ti lascio la parola con i tuoi ospiti grazie al direttore Gianni Sebastio grazie direttore buonasera buonasera a tutti dopo l'editoriale del nostro direttore Gianni Sebastio parte ufficialmente il tour il tour del punto è stato una trasmissione che ho il piacere di condurre oramai da tre anni e che davvero ci regala delle grandi soddisfazioni per la prima volta insieme a tutta la linea editoriale del nostro gruppo e del nostro editore Domenico Distante abbiamo deciso che dovevamo abbracciare direttamente non soltanto le istituzioni ma dovevamo andare proprio nei territori i territori che vengono rappresentati dalle masserie più belle io voglio subito ringraziare questa prima location che ci ospita nel cuore del Salento proprio a Lecce Masseria Lucia Giovanni grazie per l'ospitalità come vedete io chiedo subito dalla regia di fare una fotografia perché sono in compagnia di molte istituzioni con il quale questa sera farò il punto il punto di tematiche davvero importanti perché anche se siamo nel cuore nel pieno dell'estate non ci dobbiamo allontanare dai temi caldi e allora grazie subito lo vedo già qui con noi schierato grazie per aver accettato il nostro invito l'assessore regionale Sebastiano Leo ben ritrovato grazie grazie per avermi allora grazie anche al presidente della provincia di Lecce ma anche il sindaco di Gallipoli con noi c'è Stefano Minerva ben ritrovato grazie a voi grazie anche al dottor Fabio Margilio imprenditore consigliere nazionale AIOP associazione italiana ospedalità privata ben ritrovato grazie grazie a voi da quest'altra parte vado a salutare e ringrazio per aver accettato il nostro invito anche l'avvocato Paolo Pellegrino già vicepresidente Commissione Sanità Regione Puglia ben ritrovato grazie grazie per l'invito e grazie anche al capogruppo nonché di Forza Italia ma anche consigliere regionale con noi c'è Pari De Mazzotta ben ritrovato grazie a voi e un saluto dei spettatori allora vorrei subito aprire ovviamente il dibattito partendo dall'assessore Leo allora assessore Leo noi siamo nell'inizio di luglio nel caldo luglio però si parla già di emergenza emergenza covid che sembrava e pensavamo che avessimo lasciato alle spalle ma i numeri in qualche modo ci devono far preoccupare che cosa sta succedendo insomma io da un punto di vista scientifico non so esattamente cosa stia succedendo so che diciamo sono in aumento e diciamo il covid sta nuovamente riprendendo fiato anche se diciamo non è virulento come negli anni passati probabilmente siamo anche più preparati perché insomma noi siamo partiti ricordo due anni fa due anni e mezzo fa che non sapevamo davvero come affrontare questo problema della pandemia oggi indubbiamente i medici gli ospedali o comunque gli enti locali la regione Puglia come dire sono stati questi enti molto capaci molto preparati molto diciamo hanno affrontato questo tema in maniera importante in maniera efficace penso io non so cosa stia succedendo in realtà penso che qualcuno parla che occorreva fare la quarta dose che come dire questa variante è una variante particolare che quindi è difficile da da intercettare o comunque da fermare questa pandemia qualcuno addirittura questa mattina mi diceva che continueremo a in avanti a portare questa questa pandemia fino a quando non si raggiungerà l'immunità di Greggio insomma tantissime tantissimi pensieri la scienza come dire però penso che ci darà i giusti consigli come ha fatto fino a questo momento insomma dobbiamo indubbiamente seguire la scienza seguire gli scienziati questo è il mio pensiero sulle parole dell'assessore Leo voglio subito adesso sentire il parere invece del capogruppo di Forza Italia il dottor Paride Mazzotta allora Mazzotta sembra insomma che le parole di Leo dice dobbiamo imparare a convivere con un virus allora la domanda è la responsabilità è soltanto nelle mani di quella comunicazione come dire terroristica o in realtà dobbiamo stare a guardare i numeri perché insomma fino all'altro ieri abbiamo anche superato oltre i centomila casi c'è una correlazione tra quello che stiamo vedendo e verificando o è soltanto allarmismo ma no i numeri parlano chiaro purtroppo in questo periodo stiamo vivendo una fase in cui diciamo i numeri sono in crescita e quindi certamente da parte nostra dobbiamo cercare di parlare ai cittadini e soprattutto di spiegare che bisogna comunque tenere alta la guardia perché la pandemia non è passata non è virulenta come all'inizio appena detto l'assessore Leo e lo condivido però certamente è ancora in giro e noi dobbiamo stare attenti cercare quantomeno insomma di informare il cittadino affinché possiamo affrontare insieme questa nuova sfida che abbiamo davanti ecco adesso vorrei chiederlo al presidente della provincia di Lecce Minerva ma siamo tutti quanti come dire aperti in diretta quindi possiamo intervenire quando vogliamo allora voi sapete che il punto è anche una trasmissione dissacrante che spesso come mi seguite e questo mi fa un grande piacere buttiamo giù anche insomma il sipario da quelle cose che purtroppo sono evidenti sotto gli occhi di tutti allora in realtà siamo stati anche un po' troppo impreparati diciamolo perché poi abbiamo visto a Taranto durante questi episodi terribili della gente che veniva curata nelle tende perché non c'erano i posti abbiamo visto comunque un ospedale in fiera che è nato e qualcuno dice grida insomma che forse c'è stato uno spreco non lo so questo me lo direte voi oggettivamente visto e considerato che gli italiani i pugliesi si sono come dire adeguati anzi noi siamo stati una regione virtuosa dal punto di vista delle vaccinazioni siamo sicuri che questo fenomeno dismisurato dei contagi non ci riporti non ci faccia cadere di nuovo nel baratro e che quindi saremo nuovamente impreparati che mi risponde il presidente Minerva come ha detto l'assessore Leo siamo nelle mani della scienza la scienza ci deve guidare in questo momento come ha fatto egregiamente fino ad adesso e grazie a quella guida e anche a scelte politiche e coraggiose abbiamo sicuramente evitato tante morti che purtroppo in una prima fase non siamo riusciti ad evitare e in questo devo dire va sottolineato perché poi tante volte attacchiamo la sanità giustamente quando ci sono delle disfunzioni quando ci sono dei problemi ma va ricordato che la sanità pubblica ha fatto mantenere un sistema e ha salvato tantissime vite a differenza di altri luoghi del mondo in cui se non è l'assicurazione qualcuno non ti paga l'ospedale resti a morire per strada come è accaduto detto ciò è ovvio che sicuramente oggi ci rendiamo conto che c'è una fase meno virulenza meno virulenza meno impattante non solo dal punto di vista dei sintomi ma anche da un punto di vista della conseguenza del virus non bisogna abbassare la guardia bisogna convivere con la pandemia come stiamo facendo cioè non evitando sicuramente quando c'è la positività i contatti ma provando a tornare pian piano alla normalità come abbiamo fatto anche perché diversamente sarebbe complicato riuscire ad andare avanti e quindi capire se grazie ai vaccini come è stato fatto a una nuova eventuale dose si può continuare a tenere sotto controllo non tanto il numero dei contagi anche se quello è importante ma l'impatto del virus sul corpo umano e quindi le conseguenze eventualmente dell'ospedalizzazione e poi dei problemi più gravi che abbiamo visto nella prima fase del virus però c'è chi grida poi lo dico anche al dottor Fabio Margiglio ripeto quella comunicazione sferrata è anche un po' terroristica perché io insomma da attenta osservatrice della comunicazione sto risentendo anche se molta gente ed è giusto perché siamo in estate uno dice basta non se ne può più dopo due anni si parlava di ripartenza si parlava di questo senso di leggerezza però si sente io lo sento anche da molti colleghi aumentano le ospedalizzazioni aumentano le terapie intensive 280 300 sta iniziando di nuovo il panico sì è un fenomeno devo dire particolarmente sentito qui in Italia a me capita di andare spesse volte anche all'estero sono stato settimana scorsa in Spagna e non c'è questo panico che c'è qui in Italia l'approccio che c'è stato sin dall'inizio in Italia è stato abbastanza come dire particolare io non vorrei che adesso questo fattore endemico perché insomma il Covid non è più una pandemia ricordiamolo ma insomma ha assunto i caratteri endemici e non vorrei che fosse un'ulteriore come dire scusa per ritardare tutte quelle che sono le prestazioni sanitarie che sono praticamente ormai ferme al pre-Covid noi sappiamo che ci sono delle liste d'attesa in Puglia che sono incredibili non sono da paese civile e quindi mi sembra un po' nascondersi come sempre dietro al Covid come scusa mi sembra una scusa molto molto semplice detto francamente Lei ha ragione dottor Marsiglio perché poi c'è anche tutta un'altra questione un tema che dobbiamo affrontare e come sapete insomma io in questi due anni di pandemia me ne sono occupata perché il punto è stata una trasmissione oltre che premiata per degli ascolti importantissimi ma perché abbiamo fatto veramente il servizio pubblico nonostante siamo una realtà interregionale veramente siamo andati a risolvere i problemi della gente e non posso dimenticare lo dico a tutti gli ospiti anche le lotte che abbiamo fatto con la mia trasmissione quando abbiamo accolto gli appelli da Lecce fino a Foggia degli os degli infermieri che poi venivano con contratti come dire un po' a stralcio e anche i medici che mancavano e allora su questo voglio sentire l'avvocato Paolo Pellegrino perché avvocato lei conosce molto bene l'argomento della sanità e allora si parla di precariato si parla di queste figure importanti poi ci lamentiamo che se dovessimo e spero mai però stiamo facendo il punto questa sera quindi insomma qualche modo per passare questo paio d'ore come dire piacevoli anche nel caldo luglio dobbiamo però cercare di capire e analizzare i temi per quello che sono perché non possiamo far finta che non esiste il covid è tra di noi e sta tornando in maniera prepotente la domanda è sulle figure di cui le parlavo prima e cioè gli OS che spesso ne abbiamo parlato abbiamo accolto i loro appelli poi ci sono i medici che mancano e gli infermieri che insomma molto spesso forse non sono stati come dire trattati proprio in maniera idilliaca io vorrei partire da una considerazione di carattere generale che però credo che sia utile per dare un contributo e un senso anche a questi incontri che abbiamo purtroppo dovuto verificare in questi due anni che si sono spesso tradotti in manifestazione di scienza da parte di un sacco di esperti che non sapevano nemmeno che esistessero e che ci hanno detto che cosa era questa malattia e come combatterla il problema è culturale cioè non possiamo noi pensare che stiamo vivendo una situazione di emergenza non c'è più una questione di emergenza ma c'è una questione che merita una risposta strutturale per cui quando sento parlare che il sistema sanitario deve come un organetto chiudere aprire selezionare modificare se stesso per raggiungere sempre l'obiettivo di scongiurare gli effetti sociali economici della pandemia ecco esprimo un sentimento di disaccordo rispetto a questo atteggiamento è chiaro che i cittadini non tollerano l'idea di essere condizionati nella loro vita quotidiana da un virus per cui rispetto alla politica rispetto all'istituzione rispetto a chi deve decidere la vita dei cittadini stabilire che siccome sono cento anni non dieci giorni che siamo in Italia come nel mondo invasi da pandemie cicliche ricorderete la prima negli anni venti io lo so dai miei genitori e dai miei parenti quella che si fu chiamata la spagnola ma da quel momento in poi ne sono state siamo stati visitati da numerosissime da numerosissimi virus ultimamente negli ultimi dieci vent'anni la SARS ne abbiamo avute tante l'HIV è un fatto ciclico che merita e questa è la proposta che credo che la politica dovrebbe prendere in considerazione e farne tesoro e che bisogna strutturare il sistema sanitario e il sistema del welfare in maniera che si è pronti sempre alla risposta rispetto a quella che ormai è una è una questione diciamo di carattere generale perché oggi si chiama covid-19 poi ci sono le varie varianti domani avrà un altro nome però noi per effetto della globalizzazione per effetto dei cambiamenti climatici dobbiamo aspettarci continuamente delle nuove invasioni pandemiche da parte di virus e quindi dobbiamo strutturare un sistema sanitario ripeto di welfare che sia pronto a rispondere sempre cioè una strutturazione diciamo che faccia parte della programmazione ecco che faccia parte proprio dell'ordinario insomma avvocato ecco naturalmente in questo contesto rispondo se mi consenti alla tua domanda che naturalmente la precarietà dei posti di lavoro non è una risposta coerente con quello che ho appena detto è chiaro che se c'è un problema strutturale il problema strutturale implica che anche le risorse umane le risorse strumentali debbano essere strutturate e su questo tema però ovviamente sulla precarietà può intervenire ovviamente l'assessore regionale volevo dire qualcosa a proposito Paolo sono d'accordo in parte con quello che ha detto Paolo nel senso che è un problema culturale su questo non ci sono dubbi che però la regione Puglia che l'Italia non abbia affrontato bene questa pandemia io non sono d'accordo noi siamo stati un modello no ma io non ho detto noi siamo stati modello in Italia e l'Italia è stato modello in Europa ma questo senza ombra di dubbio non ci scordiamo l'Inghilterra l'inglese come avevano affrontato all'inizio della pandemia poi hanno dovuto rivedere un po' tutto forse siamo stati un po' prudenti ma quella prudenza ci ha portato a salvare tantissime vite su questo non ci sono dubbi è un problema però culturale mi spiego che cosa voglio dire noi la mascherina dovremmo cominciare ad usarla quando ci troviamo diciamo così nei luoghi dove c'è grande affollamento noi prendevamo in giro ricordo qualche anno fa i giapponesi che venivano in Italia avevano la mascherina non la portavano per la pandemia la portavano perché la mascherina evita è evitato in questi mesi in questi anni per esempio l'influenza allora nelle metropolitane e nei luoghi di grande aggregazione la mascherina va usata nelle abitazioni per esempio quando si entra a casa molti paesi europei del nord Europa i cappotti diciamo gli indumenti pesanti le scarpe le lasciano fuori dalle abitazioni allora anche nelle scuole tutto questo dovrebbe portarci a cambiare culturalmente a cambiare anche determinati atteggiamenti sulla sulla precarietà sulla sul precariato insomma la regione Puglia anche qui diciamo lo dico non perché sono un assessore regionale ma insomma negli ultimi anni noi davvero siamo stati anche qui un esempio di stabilizzazione se parliamo degli os parliamo degli infermieri il discorso dei medici è un discorso particolare diverso lì c'è un tema diciamo di numero chiuso c'è un problema di università c'è un problema di specializzazione è un ragionamento un po' diverso noi oggi se potessimo assumere 100 medici nel pronto soccorso lo faremmo non ci sono medici non ci sono medici e non è un problema quindi della regione Puglia è un problema che questo questo meccanismo si è inceppato perché il numero chiuso di medicina e della specializzazione ha portato praticamente a trovare però assessore Leo mi perdoni soltanto di mettere aggiungere un elemento poi può anche non essere d'accordo ma in realtà i medici ci sono ma vediamo alcuni dati che però abbandonano il territorio pugliese per andare insomma ad incontrare altre regioni addirittura anche in Europa io leggo io ho studiato Bologna a Bologna leggevo la Repubblica Corriere della Sera e il resto del Carlino che è un giornale tipicamente romagnolo di Bologna quello che leggo oggi sul resto del Carlino perché ogni tanto lo rileggo è esattamente quello che succede qui da noi un po' meno perché le regioni del nord probabilmente hanno lavorato forse un po' meglio rispetto a quelle del sud ma in Campania in Sardegna in Sicilia nel Lazio in qualunque parte d'Italia c'è questo problema quindi è ovvio che dobbiamo affrontarlo come diceva Paolo in maniera strutturata sicuramente o strutturale e però mancano davvero i medici ecco poi Assessore Leo c'è anche da parte della regione Puglia anche con lei che se ne occupa direttamente una proposta per far sì che quelli che ci sono non fugano insomma che rimangono qui sì le proposte quale potrebbe essere quella di un incentivo un incentivo soprattutto io per esempio sono d'accordo che soprattutto nel pronto soccorso l'incentivo deve essere un incentivo economico e non solo altrimenti è complicato vivere lavorare nel pronto soccorso non è la stessa cosa io non voglio avere poco rispetto degli altri medici o degli altri reparti o delle altre diciamo specializzazioni però davvero nel pronto soccorso è qualche cosa di incredibile quindi è ovvio che il medico va incentivato tra le altre cose il medico nel pronto soccorso non può fare la libera professione perché diciamo a differenza per esempio dell'ortopedico dell'oculista o di tante altre branche anche questo è importante ecco intanto Assessore Leo ma potete rispondermi tutti anche Mazzotta voglio solo aggiungere un particolare l'Assessore della Sanità che ben conosciamo Rocco Palese tra l'altro Mazzotta lei lo conosce perché era palesemente un uomo credo del suo partito dice anche se in questo momento è tecnico la politica a volte è davvero così lontana dai territori e dalle reali emergenze che mi dice Mazzotta? Ci sono delle contraddizioni in Puglia e questo è inutile negarlo lei ha cominciato la trasmissione dicendo che i casi di Covid stanno crescendo a dismisura però non si capisce il motivo per il quale siano state sospese i contratti agli USCA che comunque svolgevano un ruolo fondamentale per quanto riguardava appunto le persone affette da Covid perché erano quelle che giravano nelle case e vedevano insomma se c'era la possibilità di portare il malato in ospedale quindi comunque svolgevano un servizio importante per la comunità e soprattutto proprio per quanto riguarda il Covid è inutile negarlo stiamo avendo una fase delicatissima il pronto soccorso io sono uscito diverse volte su questo tema perché è un tema che va affrontato assolutamente non si può pensare di demandare al fatto che mancano alla mancanza di medici perché poi poche settimane fa si è usciti con la proposta quella che riguarda i fondi del PNR e quindi con le case di comunità con gli ospedali di comunità per carità chapeau se veramente riusciamo entro il 2026 a fare una programmazione tale da avere case comunità e ospedali di comunità però certamente questi contenitori vanno riempiti di alte professionalità altrimenti rischiamo di avere le cattedali nel deserto rischiamo di non produrre l'effetto sperato quindi certamente dobbiamo affrontare questo tema e la precarietà e soprattutto il tema della mancanza di medici è vero quello che diceva l'assessore cioè il medico del pronto soccorso prende a quanto il medico che sta all'interno del reparto e chiaramente il medico del pronto soccorso molto spesso è sottoposto a uno stress decisamente maggiore rispetto agli altri e oggi ripeto in Puglia il problema è grave ed è serio a Lecce abbiamo visto che ore e ore interminabili di fila all'interno del pronto soccorso e stiamo rischiando insomma veramente un collasso dell'intero sistema sanitario e la politica in questo momento deve dare le risposte che attualmente non si percepiscono anche perché poi perdonatemi di dirvelo e di sottolinearlo io spesso sono attorno su questi argomenti al di là del rimbalzo di responsabilità perché poi comprendo che ognuno di voi ha un ruolo importante e ve lo siete meritato perché siete a rappresentare ovviamente una carica importante però diciamolo che nel tempo si sono chiusi si sono aperti ospedali in continuazione tutta questa diciamo problematica chiamiamoli oggettivamente disservizi nei confronti dei cittadini poi ripeto abbandonando il rimbalzo di responsabilità è proprio un fatto fastidioso perché se ci pensiamo alla fine i cittadini chiedono una buona sanità perché credo sia proprio la salute forse insomma ditemi se sbaglio l'argomento principale che la tutela della salute è un diritto che deve essere riconosciuto quindi se voi istituzioni che siete sul territorio non garantite questi diritti ci ritroveremo qui ancora non lo so se poi è piacevole sempre a dire le stesse cose no? Presidente Minerva è un po' un gatto che si morde la coda l'articolo 32 della Costituzione diciamo è per i sindaci in particolare e anche per le responsabilità che li assegna in materia sanitaria è un vessillo noi cui dobbiamo come italiani andare fieri lo ha detto prima l'assessore Leo è chiaro che non ha senso dire colpa sua è colpa di quello potremmo fare questo gioco e rimbalzarci le responsabilità nel tempo e negli anni il nostro obiettivo deve continuare essere quello di investire nella sanità pubblica deve essere quello di migliorare il livello delle prestazioni sanitarie non è vero che la Puglia sta peggio di altre regioni perché basta farsi un giro nel resto del sud Italia è vero che però ci sono delle carenze ci sono dei problemi è vero che mancano i medici è vero anche e questo diciamo lo dico con serietà che tutti noi dovremmo fare uno sforzo comune per organizzare al netto degli ospedali una medicina sul territorio che aiuti le persone che non vanno ospedalizzate ad avere un'assistenza medica a domicilio o che non faccia intasare gli ospedali ma che e poi degli ospedali che siano delle eccellenze specialmente diciamo nel campo dell'emergenza urgenza per cui quando c'è una necessità si possa intervenire con velocità da sindaco uno dei miei pensieri giornalieri è il livello di qualità dell'ospedale sul mio territorio perché da lì passa anche il livello di civiltà con cui ci presentiamo al mondo intero quando viene sullo Ionio a Gallivoli a farci visita e ha un problema di salute una persona Assessore Leo in che modo la nostra sanità pugliese è stata vicino anche alle strutture private che devo dire hanno giocato un ruolo fondamentale perché sono state di grande sostegno assolutamente io sono sempre stato dell'idea che il pubblico privato devono assolutamente collaborare nella sanità nel welfare ma in tante altre attività insomma è fondamentale è fondamentale in Puglia io penso che ci sia una grande sinergia tra pubblico e privato sia per quanto riguarda le strutture ospedaliere qui abbiamo una struttura nel Salento che è Tricase che è assolutamente un'eccellenza in altre province ce ne sono tante altre e quindi questo rapporto è assolutamente di grandissima collaborazione e penso che come dire anche con il sistema universitario noi abbiamo come dire negli ultimi anni avuto una collaborazione importante questa sinergia straordinaria quindi io penso che dobbiamo continuare a supportare il privato soprattutto su alcune branche su alcune attività anche diciamo nel nel welfare nel diciamo nei servizi sociali come si usa dire diciamo c'è davvero grandissima attività da parte delle associazioni delle cooperative delle fondazioni insomma che svolgono questo ruolo assolutamente fondamentale dei servizi alla persona a tante altre cose e la regione Puglia penso che ha dato e continua a dare diciamo una fattiva collaborazione assolutamente importante Avvocato Pellegrino lei vuole aggiungere no io sul tema del pubblico privato sono perfettamente d'accordo non è nemmeno lessicalmente giusto dire sanità pubblica o sanità privata perché la sanità è unica e quindi il cittadino si può avvicinare alle strutture pubbliche alle strutture private perché ha il diritto di scelta il rapporto tra pubblico e privato però deve essere gestito dal punto di vista della politica sanitaria dal sistema pubblico perché è il sistema pubblico che intercetta i bisogni li amministra e li traduce in servizi io mi permetto però di lanciare ma senza questo l'assessore prima mi ha detto come se io avessi fatto una critica io non soffrendo delle considerazioni sono espressi male sto facendo delle considerazioni come cittadino e quindi come cittadino ho l'interesse a proporre delle soluzioni su temi che riguardano tutti per esempio il problema delle RSA qui abbiamo un diciamo un espertissimo un imprenditore che nel sistema della residenzialità sanitaria va bene avvocato a dirlo perché poi anche con la presenza ovviamente diciamolo perché poi l'RSA e grazie anche per averlo sottolineato ma si è riarrivata cioè veramente durante la pandemia purtroppo abbiamo visto delle situazioni anguscianti però io vorrei fare un discorso un po' diciamo prospettico e cioè dire attenzione i cittadini nascono e muoiono e hanno diritto alla stessa tutela sia quando nascono che durante l'ultima fase poi avvocato mi perdoni perché le lo sanno ma io sono un personaggio un po' troppo dissacrante e smettiamola di fare i cittadini di serie A e i cittadini di serie B perché quello conosce allora lo facciamo passare avanti e poi c'è gente che per purtroppo fare e affrontare una lista d'attesa rischia di morire prima ancora di scoprire la sua diagnosi cioè cerchiamo di fare le cose così come stanno e di farle in maniera trasparente ed equa perché siamo tutti sullo stesso livello è quello che stavo proprio per dire e allora noi dobbiamo garantire che l'ultima fase della vita delle persone abbia la stessa identica dignità delle fasi diciamo della piena potenza biologica dell'uomo o della donna spesso e questo è un rischio che non dobbiamo correre ecco mi rivolgo qui all'assessore Leo di far passare il sistema l'idea abbietta che a un certo punto della vita siccome una persona non ha più un interesse economico un interesse fattivo e attivo nella società debba necessariamente essere istituzionalizzata in un RSA e quindi una politica che invece aiuti a mantenere la persona nel proprio ambito familiare attraverso il care giver attraverso sostegni strumentali attraverso sostegni di risorse umane credo che sia una politica qualificante dal punto di vista dal punto di vista della diciamo della sanità di una sanità che si attenta al sociale e si attenta soprattutto a questo Assessore Leo insomma è abbastanza chiaro però credo che la regione Puglia sia stata sempre coerente come organo di controllo guardi le dico un'altra cosa passiamo ad un altro argomento noi l'altro ieri abbiamo festeggiato i 20 anni dell'Università della terza età e noi abbiamo voluto festeggiarlo abbiamo fatto tre giorni di iniziativa per raccontare quello che hanno fatto quello che fanno e quello che dovrebbero fare che faranno i nostri tra virgolette meno giovani anziani così detti fare condurre diciamo andare avanti con una vita diciamo non passiva ma costruendo percorsi ancora di istruzione di formazione di aiuto di accompagnare i più giovani diciamo con la loro esperienza assolutamente d'accordissimo diciamo i meno giovani di oggi sono un po' diversi rispetto a qualche anno fa oggi assolutamente assolutamente d'accordo assolutamente d'accordo allora vado dal dottor Margilio anche per fare insomma per chiudere questo argomento visto che insomma di covid purtroppo si muore ancora perché i più fragili nonostante le vaccinazioni perché poi le cose vanno dette perché non dobbiamo far finta che le cose insomma non le guardiamo non le ascoltiamo insomma di covid si muore stiamo ritornando a salire con i numeri insomma oggi oltre 100 morti e questi sono dati e in questi tanti morti che abbiamo avuto dottor Margilio nell'RSA purtroppo come dicevo prima abbiamo visto delle stragi perché tanti nostri nonnini non ce l'hanno fatta eravamo impreparati si poteva far qualcosa il famoso piano poteva essere reintegrato ricontrollato riproposto io avverto innanzitutto l'esigenza di fare un passo indietro rispetto alle come dire la discussione sul sistema sanitario italiano noi abbiamo un sistema sanitario che in linea di massima è quello della legge 833 del 1978 quindi sono passati 44 anni dalla istituzione del sistema sanitario italiano sicuramente nel 78 era uno dei migliori sistemi a livello mondiale ma oggi passati 44 anni è l'evidenza dei fatti insomma perlomeno la medicina territoriale e ahimè anche quella ospedaliera non hanno retto all'impatto di questa pandemia è notizia di questi giorni il pronto soccorso di Lecce attese di 10 o 12 ore per poter avere una visita medica quindi se questo è il sistema sanitario che noi vogliamo a me personalmente non piace non vedo dubbio come diceva il Presidente che rispetto ad altre regioni italiane noi siamo molto avanti ma noi dovremmo aspirare ad una sanità come dire al pari di quella lombarda emiliana veneta e con tutto rispetto non ci vogliamo confrontare con le regioni che sono più indietro di noi perché la Puglia insomma nel panorama meridionale ha sempre come dire una sua particolarità e vorremmo continuare ad averla riguardo l'RSA qui ci sarebbe veramente tanto da dire veramente si apre un mondo durante la prima ondata l'RSA sono state totalmente abbandonate dal sistema sanitario era inibito i medici di medicina generale o i medici specialisti di venire all'interno dell'RSA e forse qualcuno non lo sa l'RSA non hanno dei medici che si occupano dell'assistenza sanitaria cioè le leggi regionali pugliesi prevedono che sia il medico di medicina generale ad assistere il paziente se quindi il medico non può venire in struttura l'RSA rimangono senza medico il resto è stata una conseguenza allora sto per chiudere questa prima parte importantissima della prima puntata del punto in tour qui presso la masseria Lucia Giovanni a Lecce però ovviamente come sapete come testata di riferimento siamo sull'ultima ora è inevitabile avere un giro di commenti al volo per ognuno dei presenti perché insomma sapete la notizia ha in qualche modo suscitato davvero molta attenzione sesso e aragoste vino per un posto di lavoro in Puglia arrestato l'ex senatore Ruggeri coinvolti anche due sindaci e un consigliere regionale l'inchiesta a Lecce dove ci troviamo in questo momento in totale 21 persone coinvolte 5 arresti fra cui l'ex assessore regionale al welfare e 6 misure cautelari che coinvolgono il neoletto sindaco di Scorrano tra l'altro tra poco mi stanno per raggiungere tantissimi sindaci col quale affronteremo anche questo argomento delicatissimo Mario Appendinelli e quello di Otranto Pierpaolo Caridi che tra l'altro conosco benissimo che prementa anche le mie trasmissioni la sospensione del dirigente dell'AS di Lecce Rodolfo Orollo eccetera eccetera questo è un argomento delicato non voglio entrare nella vicenda giudiziaria voglio soltanto una battuta da ognuno di voi perché poi ecco il nesso fra quello che è il vostro ruolo in ambito istituzionale non perché rappresentate una carica rispetto poi a questi avvenimenti dove sicuramente poi la magistratura farà il suo corso e si accerteranno le responsabilità non è semplice né fare l'assessore né il consigliere regionale né il capogruppo né il presidente della provincia il sindaco e quant'altro parto da assessore un minuto al volo per capire ma io prenderò meno di un minuto io sono davvero un garantista oggi sappiamo che queste persone sono indagate quindi io attenderei sempre il percorso della giustizia cioè noi dobbiamo metterci tra virgolette qui c'è l'avvocato in testa che un avviso di garanzia non è assolutamente una condanna l'avviso di garanzia è a tutela diciamo di chi è indagato quindi penso che questo ne dobbiamo assolutamente e davvero dobbiamo essere garantisti altrimenti questa è una battaglia davvero incredibile che non possiamo sopportare Assessore Leo un po' come anche qualche settimana fa era intervenuto anche il presidente della regione Puglia Michele Emiliano che anche da me in un'intervista esclusiva diceva in quanto ex magistrato siamo anche attenti quando si emettono queste sentenze Emiliano in quell'occasione parlava dei comuni sciolti per mafia ma anche su questo argomento cioè perché molto spesso mettere la ghigliottina tutti e tutti quanti così in maniera improvvisa può anche restare in qualche modo danno alle persone che svolgono il lavoro non essere garantiste e non avere pregiudizio assolutamente bisogna accettare da parte dei giudici queste indagini perché il lavoro dei giudici è davvero uno dei lavori insieme alla sanità insieme ai medici i lavori più difficili in assoluto ecco perché io sono convinto che non si può dare al magistrato la responsabilità di quello che fa altrimenti non ce ne usciamo anche per i medici è la stessa cosa consigliere Mazzotta questo è un tema caldo insomma scoppiato proprio oggi non mi piace commentare la vicenda giudiziaria ma mi piace maggiormente interessarmi della cosa pubblica quindi penso che deve scuotere coscienza ognuno di noi il voler fare meglio e di più per la sanità pugliese quindi credo che questi fatti debbano essere presi in maniera diciamo non commentare sicuramente la questione giudiziaria perché non ci interessa ma ognuno di noi deve cercare di dare quel di più per migliorare la sanità pugliese Presidente Minerva con sincerità essere da oggi è una giornata che scuote la politica perché poi non si può far finta di girarsi all'altra parte quando succedono queste cose sono persone che tutti noi conosciamo qui va la solidarietà umana sono persone che hanno dei ruoli con cui noi condividiamo momenti giornate telefonate incontri non è facile oggi fare il sindaco faccio la difesa di sindaci perché si ha a che fare con tante situazioni come ha detto Sebastiano aspettiamo la fine dei processi per dire se sono colpevoli loro se hanno commesso reati noi dobbiamo però come dire svolgere una riflessione la vicinanza loro alle famiglie perché poi insomma quando succedono queste cose si scuotano loro le loro vite e le persone che li stanno accanto a volte non si rendono manco conto di niente così come vanno sui giornali come dire i messaggi privati diventa il pettegolezzo e non ci si concentra sul fatto detto questo la politica deve fare una riflessione le questioni morali ed etiche devono tornare ad essere centrali nel dibattito pubblico non si può parlare sempre di campagne elettorali super dispendiose o di soldi spesi a casaccio e soprattutto lo dico con fermezza se viene confermato che qualcuno ha preso soldi perché ha promesso posti di lavoro si è appropriato indebitamente di cose di altre persone per agevolarli deve non solo andare in carcere ma anche restarci perché il problema della corruzione è un problema di cui la politica si deve occupare e se c'è qualche politico che lo fa o lo ha fatto deve restare in carcere perché non può non si può per colpa di qualcuno che ancora prende in giro le persone far pagare tutta una classe dirigente chi sbaglia deve avere la nostra ferma condanna e deve rimanere in carcere chi prende soldi per promettere posti di lavoro non può avere più una seconda possibilità non solo nella politica ma come dire nel ragionamento generale che noi facciamo allora grande solidarietà delle persone nella speranza che i fatti accertino la loro innocenza se qualcuno ha preso dei soldi promettendo posti di lavoro in carcere ci deve rimanere e noi dobbiamo condannare questi atteggiamenti allora questo è chiaramente l'argomento dell'ultima ora che su cui insomma sicuramente durante il corso della puntata in questa prima puntata speciale del punto in tour noi torneremo a fare il punto perché tra l'altro nel backstage voi non lo vedete ma ci sono veramente tantissimi ospiti che stanno già incontrando la mia collega Maria Teresa Carrozzo dove si stanno preparando per arrivare qui sul palco bravissima Maria Teresa che fa domande però inopportune qui dove siamo ospiti a Masseria Lucia Giovanni tra poco io sto per congedare ovviamente questi ospiti vi ringrazio e dopo la pubblicità di che cosa parliamo perché andiamo avanti nella nostra notte d'estate qui a Lecce parliamo di fonti di energia alternative le ripercussioni della guerra siamo davvero pronti a mettere in pratica tutti gli strumenti per parlare dell'eolico per parlare insomma per affronteggiare le problematiche che riguardano il gas che la Russia oramai sta definitivamente chiudendo i rubinetti tra poco una manciata di minuti al canale 14 non sono in studio ma sono in una masseria spettacolare del cuore del Salento torno proprio in diretta con voi a tra poco eccoci qui sempre sul canale 14 Antenna Sud in punto in una versione del tutto eccezionale perché fino ad una settimana fa ero in studio e dopo dieci mesi di programmazione abbiamo deciso di intraprendere un'avventura davvero strabiliante quella di raccontare l'informazione la cronaca la stretta attualità ma anche la politica direttamente nei territori direttamente nei luoghi che in qualche modo ci contraddistingue se vogliamo perché le masserie sono di fatto un elemento tutto pugliese e ancora grazie per questo scenario meraviglioso incantevole per questa masseria Lucia Giovanni qui a Lecce nel cuore del Salento dove si sta disputando questa puntata numero uno nella versione estiva del punto in tour fotografia dalla regia grazie al mio Michele Sicoli il nostro regista esterno perché Michele facciamo vedere i nostri sindaci molti sindaci del territorio salentino mi hanno raggiunto con il quale tra poco faremo il punto il punto perché abbiamo salutato moltissimi altri politici presidenti e assessori regionali e consiglieri e allora l'argomento è un argomento caldo che infuoca l'estate esploso proprio oggi e vede coinvolti non soltanto molti esponenti ma in particolare anche dei sindaci tra l'altro un sindaco appena eletto sia chiaro non voglio entrare nelle questioni giudiziali però di fatto è un argomento che riguarda il territorio il vostro il salento dove siamo in questo momento allora facciamo il punto grazie per aver citato il nostro invito con noi c'è il sindaco di Minervino di Lecce Ettore Caroppo ben ritrovato salve buonasera a tutti grazie anche al sindaco di Trepuzzi Giuseppe Taurino eccolo qui grazie buonasera a voi grazie anche al sindaco di Martano Fabio Tarantino grazie e buonasera a tutti grazie anche al sindaco di Surbo Ronny Trio buonasera grazie per l'invito e allora subito la parola al sindaco Caroppo Caroppo questa è una notizia che al di là di quelle che poi sono insomma le responsabilità e il giusto lavoro che la magistratura fa è è due punti scuote anche la coscienza di chi fa il primo cittadino perché poi sono coinvolti due dei sindaci che noi insomma conosciamo che voi conoscete sì innanzitutto esprimo la mia solidarietà a livello personale ma anche a nome di tutti i sindaci rappresentando in questo momento anche Anci Puglia e i sindaci sono sempre un po' messi sbattuti così in prima pagina molto spesso senza avere l'idea di ciò che concretamente poi succede abbiamo enorme fiducia nel lavoro della magistratura ma così dalle prime letture anche di quelli che sono i giornali quello che pubblica i giornali molto spesso veniamo sbattuti come si dice appunto in maniera molto forse un po' forte sui giornali in prima pagina e poi tutto ci si augura così come sono certo che sarà si tradurrà in un qualcosa di quasi inesistente perché ripeto leggendo quello che sono i primi i primi articoli di giornale riferito in particolare a vicende legate dei sindaci non si riesce a comprendere bene che cosa quale sia il reato vero commesso poi c'è anche una parte di alcune alcuni giornali alcuni giornalisti che magari potrebbero approfondire un po' di più prima magari di scrivere capisco che bisogna vendere bisogna interessare il cittadino ma è pur vero che bisogna fare delle distinzioni ecco sindaco Ronni Trio il sindaco di Surbo come dice il sindaco Caroppo il sindaco di Minervino di Lecce cioè è una questione da attribuire soltanto esclusivamente a quella parte giornalistica che vuole a tutti i costi battere la notizia per come dire per il titolone perché strigliare il titolone in piena estate fa gossip o in realtà è proprio quella parte della magistratura che decide di fare chiarezza su un'indagine che però evidentemente non era partita proprio l'altro ieri quindi lei da che parte sta? Io sto dalla parte delle istituzioni delle istituzioni fanno parte i comuni le province le regioni fa parte anche la magistratura fa parte nelle sue diverse articolazioni io credo che rispetto a vicende come questa dobbiamo naturalmente garantendo sempre il principio di presunzione di innocenza nei confronti di tutti lasciare alla magistratura di fare il suo lavoro agli avvocati di fare il loro e all'esito del confronto che ci sarà nell'unica sede deputata a questo cioè l'aula del tribunale all'esito di questo diciamo confronto di questa attività che sarà fatta poi tirare le conclusioni io credo che quando c'è una notizia di reato immagino che alla procura della repubblica sia arrivata una notizia di reato fondato o no lo stabilirà appunto il giudizio successivo la procura della repubblica esegue quelle che sono le attività di sua competenza non c'è una condanna oggi non c'è una sentenza quindi proprio perché vige il principio di presunzione di innocenza rispetto a tutti gli indagati non possiamo che esprimere l'augurio che siano estranei i fatti loro imputati quindi non possiamo e non dobbiamo dire altro in questa fase se non aspettare rispettosamente che il lavoro in cui sono delegati i magistrati e gli avvocati ciascuno per la propria parte e la procura della repubblica per la parte propria via dei siti che saranno oggetto di giudizio allora sindaco di Trepuzzi Taurino la Puglia giusto per raggiungere un particolare quest'anno purtroppo indossa troppe maglie nere per i comuni che sembrerebbero sciolti per mafia però è vero anche che molti di questi poi riescono a vincere un ricorso e a dimostrare esattamente il contrario la magistratura è giusto deve fare il suo lavoro e bisogna eseguire e poi anche riconoscere la certezza della pena per chi sbaglia perché se no insomma come dire facciamo finta che queste cose non accadono e questo anche poi per rispetto di chi insomma popola il nostro il nostro paese è giusto che chi sbaglia paga allora perché poi la criminalità bussa le porte dei primi cittadini e perché spesso laddove poi si verifica in realtà l'esatto contrario cioè che quando la criminalità bussa alla porta in realtà uno accetta di fare insomma accordi il malaffare e poi dall'altra parte invece abbiamo anche delle testimonianze insomma in cui per esempio il sindaco di Carominio un vostro collega qua vicino in realtà ha fatto ricorso e ha vinto e ha dimostrato di non avere nessuna come dire a che fare proprio con la criminalità organizzata lei che cosa ne pensa? sono temi complessi anche perché lo scioglimento per mafia non avviene attraverso un provvedimento della magistratura ma avviene attraverso un provvedimento del ministero sentita un'istruttoria del prefetto e quindi è un iter completamente diverso e spesso abbiamo pronunciamenti diversi da parte della magistratura rispetto alle decisioni del ministero e dell'interno io ho vissuto una vicenda opposta io ho denunciato un boss il processo non si è fatto mai l'ho denunciato nel 2018 è deceduto poco tempo fa ma il processo non si è mai aperto benché ci sia stata una richiesta di rinvio a giudizio da parte del GIP dopo una richiesta di archiviazione da parte del PM il GIP invece aveva riaperto l'ipotesi e rinviato a giudizio per quella vicenda dal 2018 al 2021 il processo al 2022 non si è mai celebrato quindi c'è anche un aspetto controverso noi veniamo invitati a fare la nostra parte ma spesso pure veniamo lasciati da soli e consideriamo anche ipotesi in cui ognuno di noi ha fatto la sua parte l'ha fatta sino in fondo e spesso l'abbiamo fatta in solitudine ed è la solitudine dei primi cittadini quando devono adottare scelte difficili quando tu in realtà complesse penso ad alcune realtà che sono state spesso sciolte per mafia fare fronte alle richieste pressanti che ti arrivano da alcuni mondi e da alcuni ambienti non è molto facile soprattutto se tu hai il timore in quel momento di vedere messo in discussione il tuo ruolo la sicurezza personale della tua famiglia noi abbiamo un dovere in più degli altri e abbiamo il dovere di testimoniarlo per cui non dobbiamo avere collusioni con determinati mondi e dobbiamo avere il coraggio di rompere come dire quel velo di omertà che spesso caratterizza la nostra paura perché c'è paura e quindi spesso c'è omertà noi abbiamo il dovere di testimoniare più degli altri e di avere un dovere in più di avere di dover dare una risposta in più spesso questo non è facile perché è accaduto a me io ho invocato a più parti ho chiesto spesso e volentieri che si accelerassero i tempi del processo ma in realtà l'hanno un po' come dire lasciata lì e come dice lei Taurino intanto mi faccio i complimenti perché lei è un sindaco coraggioso nulla togliere tutti gli altri lei dice io ho avuto il coraggio di denunciarlo quel boss bene questo è ammirevole perché poi bisogna avere il coraggio e di questo dobbiamo anche parlare di dire no perché quello che è successo oggi questa inchiesta che è nel pieno di luglio è scoppiata è l'ulteriore inchiesta che si va a mettere se mi posso permettere di dire una cosa sull'inchiesta io diciamo distinguerei i livelli qua in questo caso non parliamo di infiltrazioni mafiose e io che sono nato garantista e morirò garantista lo dirò sempre l'ho detto anche in momenti storici difficili in cui anche la mia parte politica non era schierata sulle mie posizioni e per tutti ricordo la scuola di Giovanni Pellegrino sul garantismo io dico sempre e comunque aspettiamo prima di pronunciare i giudizi perché noi ci riformiamo sulla base delle notizie giornalistiche non abbiamo gli atti giudiziari non siamo a conoscenza del livello di indagine abbiamo il dovere di rispettare il lavoro degli inquirenti in questa fase e di rispettare anche il diritto della persona arrestata che deve comunque avere modo di provare la propria innocenza rispetto ad accuse che sono certamente gravi se hanno portato ad un arresto cautelare quindi comunque noi abbiamo il dovere di rispettare l'azione della magistratura ma non dimentichiamo che ci sono delle persone all'altra parte che hanno subito un provvedimento restrittivo io mi auguro che sappiano dimostrare per la serie non facciamo il processo ancora prima che si però i processi facciamoli fare nelle sedi opportune noi dobbiamo tutt'al più dare delle valutazioni politiche sull'azione di noi politici e questo è qualche cosa che conta Tarantino allora un tema che si sdoppia da una parte purtroppo i comuni sciolti per mafia per fare una netta contrapposizione anche una correlazione un fil rouge anche con quello che è accaduto oggi con questa notizia che ha come dire suscitato molto scalpore lei da che parte sta dunque intanto ringrazio ancora per l'invito la situazione è un po' una sintesi quella di oggi come quella che accade periodicamente ciclicamente nella politica italiana vede da 30 anni io dico la politica perdere la via maestra che è quella del garantismo ma allo stesso modo anche dei sistemi che la politica deve adottare di autotutela e di autocensura dico pure non è sicuramente un momento facile quello che riguarda sia i colleghi sindaci sia diciamo gli altri livelli dei consiglieri di chi è stato coinvolto in questa vicenda ma siamo a 30 anni dalla vicenda che ha cambiato l'Italia che ha scosso l'Italia che è quella di Tangentopoli e credo che i conti la politica non li abbia mai fatti fino in fondo con se stessa perché ogni volta che accadono determinati fatti o comunque ci sono determinate indagini si passa da delle fasi diciamo di eccessiva restrizione legislativa a fasi poi invece di ampia come dire discrezionalità da parte del legislatore credo credo che in queste maglie che si allargano che si restringono ogni tanto ovviamente ci sono queste situazioni che non fanno bene alla politica che fanno perdere credibilità alla politica ma che devono innanzitutto farci fare come dico sempre autocritica e farci tenere alta l'attenzione nessuno si deve sentire immune e nessuno si deve sentire al di sopra degli altri o in diritto di puntare il dito ma allo stesso modo ognuno di noi deve riflettere e deve essere come dire fare un monito e lanciare un monito a tutti i suoi amici e colleghi allora io chiuderei questo argomento che insomma perdonatemi lo stravolgimento di scaletta ma è un argomento caldo che fa parte proprio di oggi se posso vorrei fare una precisazione da questo punto di vista cioè quando parliamo dei sindaci in questo caso quello che è successo oggi sono per un caso in particolare nulla a che vedere con la questione di favoritismi a livello di assunzioni e quant'altro sono due cose differenti per cui oggi ci troviamo con dei colleghi che magari vengono messi all'interno di un filone di inchiesta che probabilmente nulla a che vedere con quello che potrebbe essere il reato contestato che rivede quindi anche qui quando poi la mia fotografia viene messa insieme ad altre diventa complicato spiegare al cittadino che sono due due cose differenti ma ripeto piena fiducia nel lavoro del magistratore e sono arci straconvinto che da questo punto di vista i sindaci ripeto non verranno dimostreranno la loro estraneità a qualsiasi reato e noi ovviamente il sindaco Caroppo della comunicazione e dell'informazione saremo pronti anche a conformare laddove lei ha ragione però adesso non allontaniamoci dal tema che ho anticipato prima della pubblicità perché questo è un altro tema che dai territori è molto risentito e io voglio partire proprio da lei Caroppo perché insomma è stata molta polemica la come dire la creazione del parco eolico offshore che però la politica non riesce come dire a fare quadrato perché poi dal territorio arrivano come dire le lamentele ma la politica si ingarbuglia lei che idea si è fatta su tutta questa storia io francamente tutte queste politiche nei territori non riesco a percepirla ci stanno chi è schierato a favore di una posizione e chi ovviamente è schierato in favore dell'altra c'è chi vuole difendere un paesaggio e chi invece come me probabilmente è più realista e vede i bisogni c'è chi è per il no a prescindere e chi invece come nel mio caso valuta attentamente quello che sono i pro e i contro e decide di prendere una posizione ma sempre nell'interesse preminente in questo caso del cittadino perché poi dobbiamo rispondere di un aumento dell'energia se ci riferiamo immagino al parco eolico offshore che non vogliamo fare perché è troppo troppo vicino 12 km di distanza dalla costa quindi non vogliamo l'offshore non vogliamo che so io l'impianto fotovoltaico perché ci dà fastidio non vogliamo nulla non vogliamo i rigassificatori a brindisi vogliamo andare sulla nave no perché esatto no l'abbiamo sentito il sindaco di brindisi che qualche settimana fa è venuto da me in cui ha detto in realtà noi stavamo aspettando che in realtà insomma la centrale a carbone nel 2025 cessava secondo me dobbiamo ragionare complessivamente allora l'idea di presentare ogni volta un progetto come quello necessario per risolvere i problemi e l'energia va bene sino a un certo punto allora io ricordo la vicenda TAP la vicenda TAP sappiamo tutti come è andata a finire alla fine la TAP si è fatta e i territori non hanno avuto alcun vantaggio il governo allora De Vicenti ministro per lo sviluppo economico mi pare fosse nel governo con cui cercammo di trattare la vicenda TAP alla fine propose la chiusura della centrale di Cerano come compensazione oggi riapriamo la Cerano la TAP c'è facciamo il parco eolico offshore non mi pare che questo e su Medendugno si chiede anche al TAP di aumentare una produzione di aumentare la produzione come si chiede un nuovo ricassificatore a Brindisi come nascerà un nuovo ricassificatore a Poseidon a Otranto allora se noi dobbiamo avere tutto questo volume di energia la Puglia deve diventare un hub per l'energia allora qualcuno deve spiegarci qual è il vantaggio per le nostre comunità se noi viviamo di turismo di cultura e quindi depauveriamo un paesaggio unico al mondo che è quello salentino così oggi apprezzato già peraltro messo in ginocchio dalla Xilella io mi chiedo quale vantaggio abbiamo noi ad ospitare tutte le iniziative relative all'energia che dovrebbero dare energia all'Europa e all'Italia soprattutto alla nostra Puglia senza avere alcun vantaggio diretto come cittadini pugliesi allora questo è inimmaginabile ed è insostenibile e per noi diventerebbe difficile spiegarlo ai nostri cittadini perché l'aumento delle bollette c'è l'aumento della pubblica illuminazione c'è l'aumento dei costi energetici nelle scuole nelle strutture pubbliche c'è quale vantaggio abbiamo ad ospitare un parco offshore io nella nostra casa labbate ad avere di fronte un parco eolico senza avere alcun vantaggio per la mia comunità io questo ho detto Trio scusate Trio e quindi aggiungo e lo dico a lei quindi tutto questo in base a quello che hanno riferito gli altri suoi colleghi si rischia che il nostro territorio diventi una bomba come dire ad orologeria cioè diventa una bomba ma diventa un territorio a servizio di tutti gli altri territori come lo è stato per 30 anni con Cerano che ha dato energia per due terzi fuori dalla Puglia e quindi per la serie non è un vantaggio per i cittadini pugliesi io sono prima di tutto un cittadino italiano sono un cittadino europeo capisco le esigenze dell'Europa dell'Italia però capisco anche quelle del mio perché tutti perché capisco anche quelle del mio territorio allora Trio se ci aggiungiamo le trivelle poi diciamo abbiamo completato il quadro e allora Trio io su questo tema credo che occorra avere una visione più d'insieme più ad ampio raggio perché il tema è sempre stato oggetto di polemiche di contrapposizioni di levata di scudi da parte dei territori nella gran parte dei casi legittimamente e giustamente però oggettivamente dobbiamo anche riconoscere che nel caso della vicenda TAP oggi il paradosso è che appunto come si accennava poc'anzi si chiede il raddoppio addirittura della potenziale di quella infrastruttura quando quell'infrastruttura è stata osteggiata fortemente non voluta e soprattutto si è a prescindere detto un no che poi ha determinato anche probabilmente diciamo la rinuncia anche a dei ristori che pure i territori potevano sfruttare quindi io credo che quando si affrontano tematiche come questa occorra essere come dire liberi da pregiudizi e affrontare le questioni con un'oggettività legata all'effettivo impatto che il territorio può avere positivo o negativo quindi è chiaro che quando c'è una diseconomia occorra sicuramente ostacolare il progetto quando invece al contrario può esserci un contributo allo sviluppo e al miglioramento della diciamo della indipendenza energetica da altri pesi come oggi purtroppo il conflitto ha dimostrato occorre invece muoversi in un'altra direzione però Trio mi perdoni insieme anche a Taurino perché in questo al di là poi dei schieramenti politici in questo siete uniti perché voi siete in linea in prima linea per quanto riguarda la discarica un netto no per quanto riguarda questo argomento non è una discarica nel caso in questione è un impianto di compostaggio e il no che ci ha visto uniti insieme appunto al collega Taurino non è legato all'idea e alla come dire alla concezione alla filosofia sottostante o retrostante al compostaggio in quanto tale che sappiamo essere in realtà una delle soluzioni da incoraggiare da sostenere per la chiusura del ciclo dei rifiuti la contrapposizione che noi oggi confermiamo è legata alla localizzazione specifica che per cui l'impianto è stata individuata è stata scelta che cozza in maniera clamorosa ed eclatante con tutta una serie di interessi e di tematiche legate al turismo legate allo stress ambientale che quei territori già hanno subito e a tante altre criticità di quel progetto che secondo il nostro punto di vista richiedono una valutazione o avrebbero richiesto una valutazione differente poi vedremo come andrà a finire questa storia perché ricordiamo che come comuni dell'Aro Lecce 1 noi ci siamo costituiti per impugnare quella decisione la decisione di Masteria Ghetta lo dico a beneficio di chi non sa di che parliamo e ora vedremo come si concluderà l'esito quali sarà l'esito aggiungo a quello che ha detto l'amico Ronni noi non abbiamo detto no all'impianto di compostaggio abbiamo detto sì a soluzioni condivise e concordate ci siamo fatto carico io personalmente l'ho fatto di proposte alternative l'unica parte in cui noi non volevamo l'unica località dove noi non volevamo un pianto di compostaggio in Masteria Ghetta è stata scelta Masteria Ghetta quello è l'esempio opposto di come le comunità siano disponibili a pagare anche un prezzo purché sia condiviso ma qualcuno ci ha voluto imporre una località che noi non abbiamo mai condiviso sin dall'inizio questo è il punto della situazione e questo non deve accadere così come con l'eolico offshore io non dico di no a priori ma signori miei vogliamo capire quale vantaggio ne deriverebbe alle nostre comunità che comunque una penalizzazione in termini paesaggistici la pagherebbero però sulla come dire sullo scenario dei no rischiamo però ecco nonostante le parole del sindaco di Trebuto sono delle parole che ci fanno riflettere perché dice da una parte in realtà dobbiamo anche valutare le proposte le abbiamo messe per iscritto non ce le siamo inventate assolutamente e concordo con lei però dico non si rischia però che nell'analizzare i tanti vantaggi che probabilmente potremmo avere in quanto cittadini di questo meraviglioso territorio che ci invidiano insomma in tutto il mondo che è la Puglia e di fatto insomma quest'anno siamo nel pieno della stagione estiva e abbiamo tutto registrato sold out e quindi dobbiamo tutelare questo che sta avvenendo e quindi è il turismo però dall'altra parte le faccio questa domanda i troppi no non rischiano poi di in qualche modo metterci in svantaggio sì sicuramente la domanda ci dà come dire un'opportunità di approfondire quelli che sono determinati hub che la Puglia può rivestire da un punto di vista energetico la contrarietà a TAP non era una contrarietà legata al diciamo al gasdotto in sé per sé ma una contrarietà lo ha detto anche il presidente Emiliano nell'ultima intervista al quotidiano alla scelta di allungare di 50 chilometri un percorso un percorso che poteva essere invece da Brindisi arrivare direttamente a Mesagne dice come mai si è deciso di allungare di 55 chilometri questo percorso questa diciamo era la domanda che si faceva poi ovviamente la capacità di stabilire se l'Italia ha bisogno o meno del gas o di un determinato fabbisogno energetico non lo può stabilire il sindaco di Martano ma lo deve stabilire una politica regionale nazionale ed europea lo stesso dicasi per tutte quante le scelte che si fanno senza una condivisione logico strategica con i territori adesso ci poniamo la questione energetica perché la Russia si dice no così volgarmente chiude i rubinetti bene ma sappiamo quali sono le risposte che vogliamo dare alla come come paese Italia come regione Puglia al fabbisogno energetico lo sappiamo o non lo sappiamo che già noi come regione Puglia abbiamo soddisfatto il fabbisogno energetico da fonti rinnovabili se lo possiamo sapere o non lo possiamo sapere ce lo deve dire la politica regionale serve più protagonismo della regione a mio modo di vedere allora io sto per chiudere però consentitemi un minuto a testa veramente dovete essere essere velocissimi e contribuire a non farmi svolare col tassativo c'è tutto un altro scenario importantissimo e chiudiamo questa parte della trasmissione che è il piano nazionale di ripresa e resilienza il PNRR che però rischia per molti sindaci e molte comunità di saltare perché mancano molte figure preposte i progettisti che possono presentare i progetti per quanto riguarda poi per attingere i soldi e per far sì che quei progetti vengano come dire espletati come siamo messi passiamo subito da Caroppo e facciamo un giro con tutti i sindici al volo ma nel PNRR paradossalmente proprio quello che la parte legata alla transizione ecologica è quella che oggi segna il passo maggiormente proprio in virtù di tutti questi discorsi perché tra l'altro poi dobbiamo sottolineare che comunque in Regione si sta facendo già un lavoro per individuare le aree idonee a piazzare le fonti rinnovabili che comunque dobbiamo installare perché dobbiamo chiudere Cerano che ha emissioni di CO2 quindi quando noi diciamo quanto è CO2 dobbiamo neutralizzare dobbiamo tener conto di Cerano e Taranto che sono appunto non lo dico a voi assolutamente poi c'è anche un altro aspetto quindi le aree idonee sono già sono state già di massima individuate da parte del Ministero quindi anche lì noi come Comune ad esempio abbiamo fatto già un incontro con l'Università il Consiglio Comunale ha espresso la volontà di individuare l'Università come il luogo dove trovare quelle che possono essere le compensazioni del territorio quindi le fonti rinnovabili e il PNRR da questo punto di vista ci sono delle risorse che devono essere spese che in questo momento ripeto è proprio la missione più ferma di tutte guardi progettazione ha fatto bene a mettere proprio l'indice sui temi più delicati progettazione a mio giudizio sono molto complesse e complicate anche per l'iter che hanno studio di fattibilità progetto definitivo progetto esecutivo con i comuni che non hanno un euro a disposizione e con la possibilità di attivare i fondi di rotazione che ti complicano i problemi di bilancio che per tutti sono già abbastanza delicati ma c'è un secondo aspetto che è il guaio maggiore ed è la burocrazia io per demolire dei tuguri a Casa Labbate ho dovuto scontare il parere di dodicenti le sembra una cosa possibile nell'anno 2022 che per demolire dei tuguri che impediscono la visuale del mare cemento sul mare io debba aspettare il parere di dodicenti è quello che è accaduto e purtroppo è quello che accadrà anche quando arriveranno le risorse del CIS oltre che dei fondi del PNRR e noi ci dovremo misurare con questa realtà laddove denuncio anche una mancata collaborazione da parte di molti enti che spesso si arroccano sulle loro posizioni e difficilmente dialogano con i comuni e con le realtà comunali non esprimendo i pareri nei tempi e nei modi dovuti e come dire frenando la corsa che noi dobbiamo fare per rispettare i tempi di spesa che sono abbastanza impegnativi e ristretti e allora vado a fare il punto sulla questione del PNRR e anche le perplessità in merito insomma che stavamo affrontando anche col sindaco di Surbo allora il PNRR è una grande opportunità lo abbiamo sempre detto e ribadito ma rischia di essere depotenziata nel momento in cui non si superano le due principali criticità che in parte sono state già anticipate da chi mi ha preceduto il primo riguarda la prima criticità riguarda la lungaggine e dei tempi per partire diciamo dallo studio di fattibilità al completamento di un'opera sono tempi enormi per diciamo per le esigenze dei territori e poi le risorse umane le competenze che mancano i miei uffici non sanno più veramente come fronteggiare l'emergenza anche perché ripeto trovare oggi in questa fase storica dei tecnici disponibili e delle figure in grado di entrare a pieno regime all'interno delle dinamiche di una pubblica amministrazione non è affatto semplice ed è la grande difficoltà rispetto alla quale gli enti locali comuni in particolare oggi hanno problemi più più grossi e più impellenti appunto nello sviluppare le progettualità legate al PNRR io allora concludo con il sindaco Tarantino sì da quelli che sono gli esiti delle prime valutazioni dell'equip che valutano dei team che valutano i progetti devo dire che la valutazione è abbastanza celere quantomeno per sapere se un finanziamento viene assegnato o meno ad un comune ad una comunità ad una provincia in questo caso devo dire che forse l'obiettivo del PNRR lo stiamo raggiungendo lo sta raggiungendo diciamo il team che lavora su questo grande progetto di cambiamento dell'Italia dell'Europa devo dire però che penso che il problema sia a monte cioè anche sull'equa distribuzione delle risorse e credo che su determinati aspetti tra il nord e il sud del paese ci debba essere ancora una riflessione da parte del governo per distribuire bene le risorse e darle e darle davvero sulle reali esigenze su questo credo che i sindaci debbano essere chiamati per dire la loro per diciamo la seconda fase di spesa delle risorse è inevitabile che ovviamente noi torneremo a parlare durante il tour del punto per quanto riguarda il PNRR come tra l'altro torneremo a parlare su tutti i temi caldi soltanto tra poco dopo una manciata di minuti sempre sul canale 14 il programma di maggiore successo del nostro mezzogiorno nel frattempo io ringrazio tutti i sindaci ma tra poco rimanete incollati stanno per arrivare altri politici col quale sulla stretta attualità e ovviamente sulla politica del territorio salentino interverranno proprio tra poco a tra poco ben ritrovati nell'ultima parte del punto in tour siamo sempre qui ospiti di questa bellissima struttura nel cuore di Lecce nel Salento Masseria Lucia Giovanni nel frattempo voglio ringraziare il mio regista Micheli Sicoli che nel frattempo opererà con una fotografia degli ospiti che mi hanno raggiunto in questa ultima parte della trasmissione perché continueremo nel cuore dell'estate ancora ad affrontare molti temi tra poco parleremo di pari opportunità e io ringrazio subito per avermi raggiunto qui sul palco di questa prima puntata speciale grazie al sindaco di Copertino con noi scusate il sindaco di Caprarica Paolo Greco buonasera grazie e l'invito la sindaca invece di Copertino Sandrina Schito grazie buonasera grazie alla senatrice Daniela Donno ben ritrovata grazie buonasera a tutti e grazie anche alla consigliera appunto delle pari opportunità della provincia di Lecce con noi Mena Dantini ben ritrovata grazie grazie a voi buonasera e allora si parla ovviamente di emisfero femminile e subito la parola alla sindaca di Copertino perché quello che questa sera ci vogliamo domandare è sindaca lei preferisce farsi chiamare sindaco o sindaca per me è indifferente devo dire che non ho mai tenuto al femminile piuttosto che al maschile nella declinazione del nome perché credo che quello che faccia in realtà la differenza è quello che si fa tutti i giorni no non ho una preferenza senatrice Donno insomma parlamentare impegnata in questo momento dopo insomma la scissione tra Conte e Di Maio lei si caratterizza con questo nuovo partito che si chiamerà appunto insieme per il futuro le donne hanno sempre rappresentato no questo senso di emancipazione quanto è difficile ecco per una donna che arriva poi insomma ai suoi livelli e quindi al senato avere la possibilità di fare il proprio lavoro a prescindere dalla propria condizione sessuale beh è abbastanza difficile perché nello stereotipo comune si pensa che il politico possa essere rappresentato solitamente da un uomo e quindi bisogna farsi largo e bisogna però far comprendere a chiunque che ognuno di noi ha un proprio posto indipendentemente dal dal sesso da cui nasce ed è difficile anche essere in politica perché per le donne è una è un'attività che va poi in parallelo con l'attività familiare quindi è questa è qui la difficoltà quella di far conciliare gli orari del lavoro e gli orari della famiglia e questo però riguarda una una marea di persone tantissime persone che sono comunque attive sia fuori che dentro casa basta organizzarsi basta volere far qualcosa e poi tutto scorre spontaneo e ci vuole tanta volontà tanta forza e anche tanta propositività ecco sindaco greco mi spiace che lei sia alla voce un po' fuori dal cuore rispetto alle altre tre protagoniste che di fatto sono tutte donne però c'è un motivo perché l'ho invitata perché lei invece nella sua amministrazione ha dato ampio spazio alle donne quindi insomma questa classe che si descrive così maschilista in realtà può avere poi a un certo punto un'attività di apertura come ha fatto lei ma io credo che la politica debba distinguersi sul tema della capacità non sul tema né del genere né sul tema delle appartenenze per partito preso il tema della capacità il ruolo della capacità nella valutazione della classe politica e nella identificazione di una prospettiva politica credo sia centrale sia che parliamo di politici al maschile sia che parliamo di politici al femminile la capacità la capacità di incidere i bisogni delle persone di rispondere ai bisogni delle persone di sostenerne i meriti e le volontà questo credo sia il tema centrale su cui ci dobbiamo confrontare Ecco Dantini oggettivamente che cosa è cambiato nella politica in questi ultimi vent'anni cioè effettivamente le donne hanno davvero così come dire sono così riuscite a consacrare questa emancipazione a ritagliarsi quel giusto ruolo oppure no? Sì secondo me sì le donne si evidenziano molto nel loro operato noi abbiamo alcuni ministri faccio riferimento se ne parlava prima al ministro Carfagna io sono convinta che quando una donna riesce ad avere uno spazio perché il problema non è mostrare le proprie capacità il problema è avere gli spazi e far sì che i partiti e i gruppi politici diano spazi noi siamo abbiamo appena lasciato le ultime amministrative 2022 sono state pochissime le donne candidate al sindaco e io non credo alla favola che ci raccontano che le donne non vogliono candidarsi le donne vogliono candidarsi ce ne sono tante io personalmente ne intercetto tantissime anche per il ruolo istituzionale che rivesto però spesso sono proprio i gruppi politici che bypassano alcune volontà anche di candidarsi al primo cittadino adesso stiamo vivendo il dramma di alcune amministrazioni che non riescono per equilibri politici a rispettare il dato normativo per la presenza delle donne in giunta e quindi ci sono state molte sollecitazioni che ha ricevuto il mio ufficio anche da associazioni che si battono per la salvaguardia dei diritti delle donne sono dovute intervenire l'altro giorno ho fatto una nota inviata ai 16 comuni che sono andati al voto augurando ai sindaci e alle amministrazioni un buon lavoro ma soprattutto ricordando loro che la presenza delle donne in giunta non è più un fatto discrezionale da parte degli amministratori ma vi è una precisa previsione normativa e pur di fronte alle previsioni normative c'è ancora tanta resistenza ma questo per un fatto culturale perché gli uomini della politica sono sempre stati abituati ma anche l'elettorato perché l'elettorato non vota donne il 51% degli elettori sono donne e votano poco le donne quindi c'è un dato culturale sul quale bisogna lavorare ci rilega appunto a preferire gli uomini in alcune postazioni quando poi la politica maschile ha iniziato ad accorgersi che le donne hanno occupato alcune postazioni si è scatenato un po' di psicosi dico io perché se in quella postazione ci va un uomo non destabilizza più di tanto però la presenza femminile ha creato delle destabilizzazioni anche squilibri all'interno delle compagini politiche Sindaca Schito per aprire invece il barco per quanto riguarda le quote rosa lei oggettivamente pensa che le quote rosa siano di aiuto o in realtà siano una forte discriminante non credo nella discriminante sono servite sicuramente proprio per riallacciarmi a quanto diceva Mena sicuramente sono servite perché in un periodo in cui le donne con grande difficoltà hanno avuto accesso alla vita politica vuoi per il tempo che impediva loro di poter intervenire e di poter partecipare attivamente vuoi per altre condizioni sono state utili e sono state necessarie però le donne stanno dimostrando al di là delle quote rosa di saper fare di riuscire è vero superando quegli stereotipi che risultano talvolta anche difficili da superare e però ce la fanno raggiungono i vertici le vediamo ci rendiamo conto delle capacità ecco perché io mi soffermerei sulla visione differente che portano e che è un contributo fondamentale che non è necessariamente migliore ma diversa perché il tempo che si dedica alla modalità con cui si guarda le cose è diversa e quindi il punto di vista femminile diventa un punto di vista importante e d'altro canto credo che lo stiano dimostrando anche nelle professioni laddove le donne hanno avuto accesso al lavoro in alcuni ambiti mi riferisco alla scuola oggi le donne sono dirigenti scolastiche e quindi diciamo la difficoltà delle donne in politica nasce anche dal fatto che l'accesso alla politica è tardata ad arrivare e quindi questo è un dato però oggi via via si va si va avanti certo e ci sono luoghi comuni che bisogna vincere e per cui bisogna convincere sicuramente l'elettorato è vero perché l'elettorato dovrebbe essere ed è di fatto in gran numero donna ma spesso vota l'uomo e quindi è l'idea che si dà del proprio lavoro di quello che sia che è l'effetto vincente insomma è l'elemento che fa la differenza a proposito di luoghi comuni giusto perché insomma per approfondire il tema delle pari opportunità per esempio lo voglio condividere con voi quello che è accaduto intorno ad una delle più importanti stiliste italiane perché pochissime settimane fa c'è stato insomma questo racconto durante un importante incontro in cui Elisabetta Franchi la stilista faceva proprio all'interno di un convegno dove discriminava insomma così sembrava anche se poi insomma la stessa Franchi ha fatto delle scuse nei confronti delle donne quando si parla delle donne nell'ambito professionale cioè andar io assumo quelle andar perché insomma come dire hanno già sistemato la loro famiglia e quindi possono operare e possono come dire essere più disponibili rispetto a quelle più piccole senatrice Daniela Donno non è solo nell'ambito della politica che le donne fanno fatica e non sono solo gli uomini molto spesso nella politica a discriminare le donne perché in questo caso si trattava di un'imprenditrice di grande successo che faceva una netta discriminazione possiamo dirlo fra le donne con fasce d'età diverse ma io devo dire che sono rimasta basita nel momento in cui ho ascoltato quelle parole e quei paletti che quell'imprenditrice ha voluto mettere io pensavo che fossimo una società in evoluzione non in evoluzione e ho fatto fatica ad ascoltare quelle parole e non sono offensive per gli altri sono offensive per se stessa sono state offensive per se stessa lei in quanto donna avrebbe dovuto invece agevolare il passaggio le assunzioni e non mettere paletti proprio perché sa perfettamente quanto sia difficile per una donna ricoprire un incarico anche al pari di quello che potrebbe ricoprire un uomo quindi francamente non me l'aspettavo e sono rimasta molto delusa dalle parole e dagli atteggiamenti che sono stati annunciati proprio in quella sede e sono stata contenta allo stesso modo che qualcuno si sia sia insorto e quel qualcuno è stato anche un uomo sono stati degli uomini quindi vuol dire che proprio ha avuto torto marcio a comportarsi in questo modo meno male perché ripeto sono rimasta veramente basita e mi è dispiaciuto soprattutto per lei ecco Greco mi spiace ripeto farla sentire insomma un po' la voce fuori dal coro però effettivamente il fenomeno sociologico che vogliamo affrontare in questa ultima parte della trasmissione è l'emisfero femminile anche visto dalla introspezione dell'uomo dicevamo non solo voi uomini molto spesso in quella classe dirigente in cui spesso le donne devono ricoprire gli ultimi posti di riconoscimento però diciamo che ci sono anche quelle donne in questo caso parlavamo della Franchi che però diciamo poi ha fatto le scuse però la GAF è stata fatta insomma preferiva le donne di 40-50 anni ma credo che quello più che una questione riguardante il tema femminile sia una questione anche essa importante che riguarda i giovani riguarda le nuove generazioni riguarda le generazioni che possono mettere su famiglia quindi le difficoltà legate al mettere su famiglia nel nostro paese rispetto al tema delle donne è evidente che comunque guardi sono sincero vede noi siamo qui e finalmente abbiamo sul palco tre donne e siamo qui a parlare di un tema importantissimo quale quello delle pari opportunità che sembra un tema relegato esclusivamente alle donne e io sono evidentemente fuori fuori contesto e sindaci importanti di comunità importanti piuttosto che una senatrice o una consigliera comunale della città di Lecce hanno cedono il passo a esponenti tutti maschili che invece hanno parlato di argomenti di altro genere vede anche in questo si segna una non dico una discriminazione perché mi sembra eccessivo ma un relegare un mettere da parte un dare un ruolo secondario e questo sinceramente un po' dispiace Dantini per analizzare in campo politico quello che ci domandiamo se poi effettivamente ai massimi vertici ci sono realmente un numero cuspicuo di donne a me sembrerebbe proprio di no perché se facciamo un passo indietro durante l'elezione del capo dello Stato ad un soffio la Casellati era un nome femminile ma non solo perché nella rosa dei nomi ce ne erano state tante eppure l'ha spuntata nuovamente Mattarella quindi la classe predominante maschile è riuscita ancora una volta a farla franca portando un uomo come dire all'obiettivo finale ma in Puglia per esempio abbiamo Loredana Capone presidente del consiglio regionale invece qui veniamo rappresentati da una donna la domanda siamo davvero così indietro nel riconoscere alle donne un ruolo delle proprie aspettative? Sì siamo molto indietro in geograficamente nel sud Italia siamo abbastanza indietro in Puglia e siamo molto indietro anche nella nostra provincia io mi riferisco soprattutto al settore lavorativo noi abbiamo tassi di occupazione che rappresentano un gap notevole rispetto a quello di altre realtà poi non confrontiamolo col dato europeo perché il gap diventa ancora ancora superiore quindi settore lavorativo sicuramente stiamo indietro in politica secondo me siamo ancora indietro non dimentichiamo che alle ultime regionali si è votato con la legge sulla doppia preferenza adesso che cosa succede? che con questa legge che è facoltativa ricordiamolo agli elettori non è un obbligo si è riusciti ad escogitare il sistema per bypassare l'elezione femminile per bypassare la preferenza femminile quindi i partiti e i gruppi politici sempre perché condizionati da questa cultura al maschile escogitano le migliori strategie affinché il doppio voto venga veicolato diversamente oppure si vada sulla preferenza netta il problema ripeto è culturale bisogna lavorare molto sociologico culturale bisogna lavorare molto ancora su questo aspetto affinché tutti ci abituiamo alla presenza delle donne ovunque la visione delle donne lo diceva prima il sindaco noi abbiamo una visione che è complementare a quella degli uomini non vogliamo sostituirci agli uomini siamo complementari siamo perfettamente consapevoli che dove possiamo dare il nostro contributo mi riferisco a tutti i settori della società sicuramente si vive meglio se poi ci rifacciamo ai dati economici se la donna lavora assieme agli uomini nel nucleo familiare c'è un reddito pro capite che aumenta e quindi il reddito familiare e quindi anche il circuito economico sicuramente si avvantaggia di risorse in più non vogliamo togliere nulla a nessuno vogliamo solo che le nostre aspirazioni il nostro contributo possa rendere migliore la società e soprattutto vogliamo misurarci per quello che sappiamo dare la legge sulla doppia preferenza è stato un atto necessario perché le donne di fatto non riuscivano ad essere elette ancora oggi hanno difficoltà ad essere elette sempre per quel dato culturale a me personalmente le quote non piacciono però sono uno strumento necessario affinché ci si abitui alla presenza delle donne ovunque e allora visto che abbiamo identificato l'unicità di questo nuovo progetto editoriale che di fatto accosta il successo della trasmissione invernale e cioè il punto in tour nelle masserie allora ogni puntata chiuderemo con quello che può essere l'allarme del territorio nel Salento siamo nel pieno della stagione estiva arriva un dato preoccupante che è quello relativo alla mancanza di personale ma è tutta colpa del reddito di cittadinanza oppure in realtà si cela dietro altro tipo di problematica allora faccio un giro di commenti perché intanto abbiamo qui la senatrice Daniela Donno che comunque è appartenuta al Movimento 5 Stelle e voi fortemente avete voluto questo strumento il Salento è terra di grande turismo però è anche vero che da qui arriva questo allarme cioè è vero che mancano delle figure importanti nell'ambito professionale perché molti si cullano dietro questo strumento lei di che idea è? in realtà anche questo è un fatto culturale perché il reddito di cittadinanza se non ci fosse stato durante la pandemia avremmo avuto una una percentuale esponenziale di persone che sarebbero rimaste a casa tanto è vero che hanno perso il lavoro e quindi non riuscivano a derivare a fine mese per gli stipendi bassi e quant'altro il reddito cittadinanza innanzitutto quello che si riscontra dalle nostre parti spesso una nostra realtà turistica di cui ne andiamo molto fieri quello che si riscontra è che se l'imprenditore se chi offre lavoro passasse dagli uffici del centro per l'impiego dove hanno degli elenchi che possono fornirle questi elenchi sono a disposizione di chi fa l'offerta di lavoro capirebbero gli stessi imprenditori che assumendo attraverso il centro per l'impiego potrebbero garantire all'utente uno stipendio adeguato non da schiavo una contribuzione altrettanto adeguata allo stipendio e risolverebbero anche risolverebbero anche chiedo scusa il problema dell'economia e quindi girerebbe l'economia quello che invece fanno le persone che offrono lavoro fanno la solita chiamata diretta all'utenza e chiedono alle persone di farli lavorare ma non possono lavorare alle condizioni ai cui vengono sottoposti allora se io faccio un discorso molto semplice se a me occorre due tre persone che devono stare in cucina se mi occorrono i camerieri non posso pagargli 25 euro al giorno per 8 10 12 ore è una cosa assurda quindi secondo lei per quale motivo poi come dire lo strumento del reddito di cittadinanza viene come dire usufruito meglio rispetto a chi chiaramente se viene devo andare a lavorare per 25 euro esatto la risposta classica è se io devo venire a lavorare per 8 10 12 ore al giorno e mi corrispondete 400 euro al mese 500 euro al mese se va bene altrimenti pagano serata e se non c'è clientela non pagano nemmeno allora se io devo venire per lavorare tutte queste ore e non guadagnare di rimetterci anche soldi di carburante per ricarmi al lavoro chi me lo fa fare chiaramente io rimango a percepire 780 euro al mese e cerco di avere un'altra offerta l'utenza deve anche comprendere però d'altra parte che dopo le tre offerte che vengono passate attraverso il centro dell'impiego perde il reddito di cittadinanza perde la facoltà di percepirlo e quindi si avrebbe una regolamentazione diversa un momentino solo volevo anche precisare che grazie al reddito di cittadinanza gli imprenditori o chi offre lavoro può avere un'agevolazione fiscale enorme che non avrebbe comunque facendo un contratto di lavoro normale quindi io invito tutti gli imprenditori e chi offre lavoro di passare attraverso il centro per l'impiego dove ci sono quegli elenchi di personale a disposizione e ovviamente di soffrire anche di queste agevolazioni lo Stato le ha mettere a disposizione usatele ecco andiamo nei territori perché poi effettivamente voi sindaci siete nell'attivo e nell'ordinaria amministrazione coloro che poi testano i risultati e le problematiche ma è veramente così davvero i giovani delle vostre comunità che so a copertino piuttosto che a caprarica i ragazzi preferiscono stare sul divano di casa godendosi lo strumento del reddito di cittadinanza o invece è per colpa come diceva la senatrice donno del fatto che insomma i ragazzi vengono mal pagati che utilizzano quello strumento chi mi risponde prima intanto diciamo che lo strumento è stato uno strumento importante che era presente in tutta Europa e quindi era giusto che anche l'Italia intervenisse con questo strumento che dà la dignità alla persona perché senza lavoro comprendiamo tutti che non c'è dignità e la dignità è il primo elemento che contraddistingue le persone posto questo mentre in Europa ci si attiva a che la persona che si trova in quel momento temporaneamente senza lavoro e naturalmente i centri per l'impiego funzionano e anche qui da noi in realtà funzionano c'è però la volontà e il fatto di uscire da questa condizione di limbo perché in effetti rimanere a casa credo che non faccia bene a nessuno è pur vero che il lavoro come strumento deve essere garantito e deve essere assicurato è pur vero che è necessario avere la specializzazione per alcuni tipi di lavoro per cui il problema è ampio e complesso sicuramente va rivisto perché così com'è non può rimanere io credo che l'intervento debba essere necessario anche a livello legislativo per cui non si può continuare in questo modo per cui abbiamo persone che sono fuori dal mercato del lavoro e non riescono ad entrare intanto il tempo passa e però ci sono anche imprenditori ci sono anche situazioni tali che richiedono la necessità di personale che pur c'è e quindi è necessario rispondere adeguatamente con risorse e con risposte che siano adeguate al problema che esiste ed è complesso Greco perché poi insomma abbiamo anche scoperto i tanti furbetti no? beh i furbetti ci sono in ogni dietro ogni norma ci sono dei furbetti non solo in Italia in ogni paese per cui non tenderei ad ingigantire il tema dei furbetti come non tenderei ad ingigantire il tema degli imprenditori sciacalli cercherei di affrontare in maniera ordinata un problema che è complesso perché passa da molti degli aspetti che ha accennato prima il sindaco scritto ma soprattutto passa da un modello economico sbagliato che è quello del turismo in Cialento ecco questo è un tema su cui probabilmente avrebbe la pena confrontarsi cioè quello di un modello economico che non può vivere due mesi e mezzo all'anno che non può vivere con dei picchi turistici così alti banalmente perché non abbiamo un numero di giovani che vogliono lavorare in maniera stagionale commisurata alle esigenze delle attività turistico alberghiere presenti sul territorio quindi i temi sono tanti il reddito di cittadinanza ha delle luci e tante ombre sicuramente però non possiamo nascondere le ombre con la pandemia perché il reddito di cittadinanza è stato pensato proposto prima della pandemia quando la pandemia non si sapeva neppure l'esistenza così come per parlare di un argomento trattato prima il PNRR è stato pensato e sviluppato prima della guerra tra la Russia e l'Ucraina per cui anche prima del problema energetico per cui non è il PNRR il tema l'emmezzo di risposta al carro bollette così come il reddito di cittadinanza non è la risposta al problema della pandemia il reddito di cittadinanza c'è prima c'è da prima casualmente c'è stata la pandemia e casualmente ha dato risposte perché anche un orologio fermo come dire segna l'ora giusta due volte al giorno però non è il reddito di cittadinanza che ha dato la risposta sulla pandemia perché se no raccontiamo delle cose che non stanno né in cielo né in terra tornerei alla realtà e la realtà ci dice che in Salento abbiamo pochi giovani e in Salento abbiamo un'esplosione in due mesi e mezzo all'anno che non è sostenibile non è sostenibile come modello economico ecco allora Dantini e allora a questo punto per chiudere il cerchio sulle parole del sindaco greco allora è tutto concentrato realmente in questi due mesi e mezzo tre mesi nel Salento il problema vero e proprio cioè la mancanza di personale non è attribuibile solo allo strumento del reddito di cittadinanza ma bensì alla congestione insomma che si verifica qui durante l'estate a lei la risposta sì sicuramente è un problema perché il Salento negli ultimi anni ha vissuto e vive grazie a Dio una esplosione di turismo è una meta ricercata da tanti le strutture recettive cercano personale il reddito di cittadinanza rappresenta un deterrente per la forza lavoro questo dobbiamo dirlo perché dobbiamo avere l'onestà intellettuale di dire la verità è sicuramente una misura è stata soprattutto in passato una misura di sostegno al reddito ma io voglio ricordare che non è l'unica misura di sostegno al reddito noi in Puglia avevamo il redd e forse c'è ancora il redd quindi ci sono anche altre misure collaterali però è una spesa improduttiva per lo Stato per come è stato formulato in Italia perché non si può inconcepibile che si possa pagare una persona perché se questa è dignità non lo so io non mi sarei non mi sentirei soddisfatta o non mi sentirei degna di percepire 780 euro stando a casa quindi diciamo la verità le cose chiamiamole come vanno chiamate sicuramente c'è un aspetto che va rivisto e controllato il sistema dei controlli nel mercato va perfezionato perché comunque ci devono essere anche delle paghe adeguate alle ore lavorative prestate però bisogna dire che chi prende 780 euro è disincentivato ad avvicinarsi al mondo del lavoro io ho trovato molto interessante invece la proposta del ministro Caravaglia che ha previsto appunto la rivisitazione del reddito perché chi deve andare a lavorare dice no io non vado perché altrimenti perdo il reddito allora non togliamo il reddito riduciamo l'importo del reddito e compensiamo la parte restante con l'indennità lavorativa con il compenso lavorativo allora in questo caso c'è anche un approccio psicologico del lavoratore diverso si avvicina diversamente al mondo del lavoro perché non è terrorizzato dal fatto di dover perdere il reddito quindi una proposta molto interessante mi auguro che il governo la porti avanti quanto prima anzi qui abbiamo la senatrice visto che voi avete sostenuto fortemente il reddito di cittadinanza ma non ha funzionato facciamolo funzionare con una proposta interessante che arriva da questo ministro sì certamente non so se posso intervenire assolutamente sì senatrice certamente tutto perfettibile effettivamente come diceva anche il sindaco prima ci sono delle ombre oltre le luci e devo dire però una cosa che il sistema rimane sempre quello allora se chi assume offre uno stipendio adeguato alle paghe nazionali il reddito di cittadinanza viene integrato dallo stipendio non si perde totalmente quella facoltà il problema però si pone nel momento in cui gli imprenditori assumono solo per la stagione i cosiddetti stagionali anche questa è una forma di cultura che bisognerebbe magari cambiare bisognerebbe fare più informazione oltre che riformare lo strumento bisogna fare anche informazione quindi da ambo le parti la bilancia deve pesare nella stessa maniera ma vanno anche ripristinati i voucher per esempio questa è stata un'altra cosa diciamo che i temi sono tanti ci sono tante cose da fare e tante cose da fare perché i temi sono tanti e io sarei ovviamente qui con voi sotto le stelle di questo cielo meraviglioso di luglio nel cuore del Salento a Lecce qui proprio a Masteria Lucia Giovanni che ringraziamo per l'ospitalità grazie ovviamente all'intervento di tutti gli ospiti politici che hanno preso parte a questa nostra prima puntata del punto in tour che ovviamente ritornerà la prossima settimana nel weekend dell'informazione della stretta attualità e della politica di Antenna Sud perché andremo avanti per tutta l'estate perché l'obiettivo è quello di penetrare i territori fare intervenire proprio i politici a cercare in qualche modo di affrontare quelle tematiche che come avete visto ne abbiamo anche affrontate tante anche dell'ultima ora grazie a tutti è stata una puntata davvero molto intensa grazie a tutti per aver partecipato io ovviamente come sempre dico tra sette giorni sempre qui con il punto in tour buonanotte grazie a tutti grazie a tutti